Io insisto a dire che era uno dei motti di Federico II, cioè il processo creativo è unico, che si parli di biomedicina, di musica, di matematica, di fisica, quello che va comunemente sotto il nome di unicità del sapere, che spesso poi viene divulgato male, ma credo che sia così. I meccanismi mentali sono gli stessi, sono convinto che un giorno lo proveremo proprio scientificamente questi elementi. Quindi dalla musica passiamo a delle cose molto più prosaiche, perché quando parlano i rettori di solito sono noiosi, se no non li avreste letti i rettori. Mi riferisco anche a lui ovviamente. Allora, io farei così, cambierei un po' l'ordine, io farei, inizierei semplicemente per un motivo di organizzazione, inizierei con il rettore Novelli di Tor Vergata, perché ha delle piccole schede che forse possono essere introduttive, delle slides di PowerPoint, che possono essere introduttive a un argomento che sembra, così come è detto, estremamente esoterico, relationship and integration between advanced learning and research in the biomedical sciences. Non so neanche cosa sono le biomedical sciences, immaginate che se posso sapere che cos'è l'integrazione fra advanced training and research. Quindi partirei da lui e poi passerei a Carmine di Ilio, che non vedo dove sta. È lì, è lì. Ti nasconde, Carmine? Intanto grazie a Franco e a tutti voi per essere qui a celebrare dieci anni del change, a cui auguro ovviamente, dal mio punto di vista personale, un successo ancora più grande di quello che ha avuto. Franco mi ha chiesto di dare uno spunto di discussione a tutti i colleghi rettori, che ringrazio per essere qui, per cercare di dare un contributo fattivo a quelli che sono cosa? Gli operatori del change, perché è vero che Franco ha fatto vedere le strutture, le tecnologie e quant'altro. Ma è ovvio che per fare questo ci vuole una palestra. La palestra è il change, ma chi si allena nella palestra sono i giovani ricercatori, altrimenti senza di loro non ci sarebbe il change. E mi fa molto piacere anche una frase che è di un passaggio del discorso di Franco, quando ha detto strutture come il change devono stare nell'università, per l'università e lavorare con l'università. E questo secondo me è un punto cruciale, perché la formazione ovviamente non può che avvenire di concerto con l'università. Questa prima diapositiva che vi faccio vedere riassume un po' questo, che è una di quelle lettere che appaiono su Science, di un giovane postdoc americano che ha scritto, dopo un po' di tempo che io ho chiesto dei finanziamenti, con i tagli che ci sono stati, abbiamo sentito il professor Ramirez che ce l'ha sottolineato, dice il mio futuro è compromesso. Ecco, questo è drammatico una lettera del genere scritta da un giovane postdoc su Science. Cosa sta accadendo e perché questo futuro è compromesso? Beh, oggi viviamo in un periodo molto difficile, ricco di incertezze da tutti i punti di vista, dal punto di vista delle risorse, lo abbiamo sentito più volte oggi. E allora è chiaro che molti dei giovani che sono qui si chiedono ma possiamo noi avere qualche speranza di lavorare nel settore della ricerca, per la ricerca e nel settore soprattutto in tema delle biotecnologie. Certamente questo non è facile, bisogna avere delle ricette, trovare le ricette oggi non sono semplici, perché insomma, come dice questa vignetta che vedete qui ci vorrebbe un miracolo per fare tutto questo. E i miracoli, come voi sapete, poi di questi giorni in Italia, insomma, sono difficili, sappiamo bene che per ottenerli ci vogliono anni e quindi poi avere anche dei rapporti in alto molto buono. Tuttavia, noi cosa possiamo fare? O ci aspettiamo, ci sediamo e vediamo che succede, oppure cerchiamo di fare qualcosa. E questo qualcosa è quello che dovrebbe essere una piattaforma di discussione oggi, cioè cosa possono fare i rettori e quindi le università per raggiungere o per migliorare questo stato di cose. Chiavi per il successo, ovviamente nel settore della biomedicina, perché è quella di cui parliamo oggi. È chiaro che bisogna avere un collegamento per fare un outstanding di clinica, questo è fuori discussione. Fare una formazione di elevato livello che è unito, come voi vedete, all'attività di ricerca. Tutto questo per oggi non può prescindere da quello che è appunto il mercato. Il mercato non è da intendere solo in senso, diciamo così, materiale, ma il mercato qui lo intendo in senso di uomini, di risorsi umani, di talenti, di persone da trovare, da cercare in giro. Nelle ultime settimane c'è un grande dibattito su Science che è stato lanciato a Sidney Brenner, che dice in qualche modo, io sto cambiando il mio modo di fare ricerca nel laboratorio e sapete come farò nel mio nuovo laboratorio a Singapore. Farò fare tutto ai giovani. E qualcuno gli dice, e perché proprio dei giovani? Perché lui dice, i giovani sono ignoranti e l'ignoranza nella scienza è fondamentale. Le cose più belle che io ho fatto sono quando mi sono occupato di settori di cui non sapevo niente. E credo che detto da un premio Nobel importante per la fisiologia e la medicina, come Sidney Brenner, questo è sicuramente un messaggio importantissimo. Da questo punto di vista è chiaro che noi abbiamo bisogno di un'organizzazione. L'organizzazione nel campo della formazione e della ricerca deve mirare a tre linee di sviluppo più importanti sui quali dobbiamo lavorare. Primo è quello di ovviamente spingere il più possibile, diciamo stressare se volete anche, vi l'ho detto già prima, la clinica, la ricerca di base, la ricerca traslazionale, la ricerca interdisciplinare. E questo è un punto cruciale. È finita l'epoca in cui nel singolo laboratorio, nel singolo gruppo, si potevano fare e firmare lavori oggi di quelli che fanno avanzare la scienza in senso verticale come abbiamo sentito oggi. Vedete i migliori lavori del mondo oggi, gli autori se li guardate appartengono a discipline diverse. Migliorare i programmi appunto formativi e i curricola formativi. Quindi sono da rivedere molti dei nostri curricoli alla luce di quello che ho detto prima, perché molto spesso risultano obsoleti nel campo della biomedicina. Questo lo possiamo fare naturalmente selezionando, anche dando più risorse a quelli che possono essere centri di eccellenza o centri, diciamo così, di sinergia. Le strategie e in qualche modo la tattica per farciò deve passare. Non c'è dubbio per quello che è la missione vocazionale degli ospedali universitari. E questi si stanno rivedendo. La conferenza dei rettori proprio da poco ha pubblicato un documento molto importante che è attualmente in discussione con il Ministro della Salute e dell'Università per arrivare a definire i nuovi protocolli d'intesa in cui la ricerca di base e abbiamo inserito anche la ricerca applicata e anche la terza missione dell'Università, cioè le capacità con cui le Università possono fare appunto prodotti, facilities e contatti con l'esterno. Tutto questo deve partire da quello che è il futuro degli ospedali universitari. Facilitare il reclutamento e quindi promuovere ovviamente l'eccellenza a tutti i livelli, queste sembrano parole ovvie, però in questa direzione ci stiamo andando. Io prima ho ricordato a Professor Ferrari un dibattito che abbiamo avuto a Ginevra poco tempo fa nell'Aspen in cui illustravo alcune novità che erano contenute nella legge di riforma dell'Università italiana e lui ha ricordato bene con Francese che ci ha criticato dicendo, caspita però in questo vostro Paese per far emergere il merito avete dovuto fare una legge specifica. Beh la risposta è che se non avessimo fatto quella legge oggi non potremmo fare le chiamate dirette dei vincitori dei Grandi RC che sono i Grandi europei. Io so che a Napoli il Rettore Marrelli ne ha fatti cinque credo e anche in altre sedi, io ne ho fatte quattro a Tolvergata e quant'altro. E questo è una rivoluzione nel nostro Paese, cioè dei postdoc vincitori di un Grandi europeo sono stati reclutati. Direttamente, senza concorso, senza passare di dipartimenti, direttamente ovviamente dal CDA con assunzioni dirette. Questo secondo me è un fatto positivo. Poi il riconoscere ovviamente il ruolo di educatori a tutti i livelli e favorire per quanto possibile i programmi formativi. Un altro aspetto molto importante è quello che bisogna cercare di dare a tutti, per quanto possibile con le difficoltà che abbiamo, un training importante, cioè la palestra che dicevo prima. La palestra quindi con i mentor, ma che siano veramente dei, diciamo così, delle persone che possono aiutare a crescere i giovani, ad avere le idee migliori, a sostenere le idee migliori, per creare poi opportunità di lavoro e per ovviamente favorire il marketing anche di eventuali prodotti. questa slide che vedete qui è presa qualche mese fa, l'ho fotocopiata all'Università di Harvard, dove mi trovavo, per un seminario e mi fa vedere come sembra banale questa propaganda. Per ora era come per dire attenzione abbiamo bisogno di talenti e quindi cerchiamo questi talenti. I talenti sono una cosa importante e dove sono i talenti? Nelle università si formano i talenti e le idee. Il problema è scovarli e noi dobbiamo trovare strumenti per scovare questi talenti, perché altrimenti l'Europa sta perdendo i migliori talenti. È cominciata una guerra per accaparrarsi i migliori talenti, perché cercano tra qualche anno di andare fuori, di andare appunto in paesi emergenti, vi ho detto Singapore non a caso, e altri paesi del sud-est asiatico che stanno reclutando in maniera diretta. E noi non dobbiamo farci sfuggire queste occasioni. Il modo per trattenere questi talenti è quello di creare programmi che possono facilitare e naturalmente offrire l'opportunità a queste persone di trovare un ambiente adatto a sviluppare le proprie idee, le proprie ricerche e, perché no, anche le proprie aspirazioni personali. Naturalmente per far questo c'è molto da lavorare, non discuto tutti gli aspetti dei singoli punti, però come dicevo prima, il rivedere il curriculum formativo è un aspetto molto importante. Un altro aspetto importante è quello di aumentare la diversità tra studenti, cioè quella che in poche parole è l'internazionalizzazione. Finalmente nel nostro Paese sto vedendo in maniera molto costruttiva e positiva numerosi corsi di laurea in lingua inglese, ne sono aumentati parecchi perché questi attirano, perché cominciamo ad avere domande sia di docenti sia di ricercatori che proprio perché c'è il corso in lingua inglese non vedono più una barriera alla lingua, quella di venire ad insegnare nella lingua scientifica internazionalmente riconosciuta a tutti. Cominciamo ad avere anche dei corsi di laurea che hanno 20-30% di studenti stranieri, nel vero senso della parola, non italiani che studiano in inglese, ma stranieri nel vero senso della parola. E questo è importante perché cominciamo ad avere dei W di grigio e dei titoli congiunti rilasciati da università italiane e università straniere. E questo lo ritengo una cosa importante. Quando le università si incominciano ad aprire, vi assicuro che anche grandi università straniere aderiscono con partnership molto importanti e ne stiamo vedendo diverse in Italia. Per quale ragione tutto questo è importante? Perché, come dicevo prima, i talenti si sviluppano all'interno delle università e questa slide che è tratta da Science dello scorso anno vi fa vedere una cosa molto importante, quello che è il percorso del trasferimento di conoscenza, che inizia con l'idea geniale magari di uno studente, con il suo mentor che identifica e riconosce questa idea, la valorizza, lo presenta al Dipartimento, il Dipartimento lo spinge magari a creare uno spin-off o una singola impresa, oppure a farlo lavorare o a metterlo in contatto con una piccola industria. Dopo questa piccola industria diventa un prodotto. Piccole storie come queste, che è raccomagnato da questa vignetta, incominciamo ad averne. Anche in Italia. Alcune idee geniali di studenti italiani sono diventate prodotti importanti, ce n'è uno acquistato dalla Menarini da poco, è una macchina che isola cellule tumorali singolarmente in maniera del tutto automatico, fatta da uno studente di ingegneria di Bologna, che è adesso attualmente l'amministratore delegato di questa company internazionale. Questi sono piccoli, piccoli esempi. È chiaro che noi dobbiamo favorire, aiutare anche e uscire fuori, dicevo in quello che è chiamato, e ormai è considerato da tutti, la terza missione dell'Università, oltre alla didattica e alla ricerca, che è quello appunto di aiutare nel job placement i nostri laureanti. Ci cominciano a fare, e lo stiamo già facendo, accordi sia con molte industrie per fare quello che è, diciamo così, un partneriato che accompagna i nostri giovani laureati nelle industrie, già prima che si laureano, per fare uno stage formativo. Questo è previsto dai programmi europei, non a caso è stato lanciato al Ministro del Lavoro pochi giorni fa, il progetto Garanzia Giovani, che prevede l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani universitari o di giovani studenti, che però devono avere un partner universitario a fianco che li accompagna e gli trova un modo con cui possono fare uno stage, perché poi è chiaro che facendo uno stage sono riconosciuti, caratterizzati e magari trovano anche lavoro. Penso che questo era l'ultimo spunto e sono pronto poi per dibattere insieme a voi di alcuni di questi punti. Grazie. Grazie Giuseppe. Allora, vediamo di agire in questo modo. Io farei intervenire per capire di che stiamo parlando. Farei intervenire prima i rettori che sono dell'area, perché sennò io e Filippo De Rossi che diciamo. E quindi Carmine di Ilio, dove stai? Carmine, se ti nascondi. Poi ci sono i delegati dei rettori che sono, diciamo, pure dell'area, però essendo delegati dei rettori sono meno dell'area. E poi parleremo invece i rettori, diciamo, quelli tuttologi, che saremo io e Filippo De Rossi. Claudio Quintano ha capito che non è tutto quello che se n'è andato. E infine concluderebbe Gaetano, perché essendo bright, sa cogliere i punti giusti. Io non saprei farlo. Allora, Carlo, un saluto a tutti voi, naturalmente. Un ringraziamento a Franco per aver organizzato questa bellissima giornata insieme ai suoi collaboratori, che ci ha fatto vedere quanto lavoro e quanto sacrificio è stato fatto per la ricerca scientifica, per l'avanzamento delle conoscenze. Quando una persona come lui ha dedicato la vita, l'intera carriera a questo mestiere. Prima Massimo ha detto i rettori sono noiosi. Lo sarò, lo dico, perché contrariamente a quanto si può pensare in una situazione come questa, di una giornata di festa, io invece vi voglio dare dei dati che di festa non sono. Ed è, come dire, la condizione nella quale è versa la ricerca scientifica in Italia e dentro questa ricerca scientifica c'è naturalmente la condizione tutt'altro che piacevole di tanti giovani che sono cresciuti in laboratori magari non tanto prestigiosi come quelli del change, ma che hanno sperato di poter anche loro dedicare questa attività, la loro vita a questa attività, ma che le condizioni attuali in cui versa la ricerca scientifica in Italia non lo permettono, perché si pone molta enfasi sulla ricerca scientifica, si attribuiscono ad essa dei meriti grandissimi per quanto riguarda l'avanzamento della condizione economica nei paesi, tutti i paesi compreso l'Italia, però la realtà ci dice che in termini politici ciò che si va va in tutt'altra direzione. Allora riprendo un po' ciò che era stato un po' detto con la strategia di Lisbona, forse qualcuno se la ricorderà, qualcuno ricorda insomma quali erano i propositi che erano stati espressi nella strategia di Lisbona e nella comunicazione strategica Europa 2020, che aveva posto come obiettivo primario per l'Europa una economia basata sulla conoscenza, come fattore di lavoro e come fattore di coesione sociale. Quindi da un lato che cosa si dice? Si afferma l'importanza primaria della conoscenza, quale strumento per conseguire una crescita economica sostenibile? Si assegna alle università un ruolo centrale proprio perché da istituzione, sono istituzioni incaricate di formire formazione specializzata e avanzata, di produrre nuova conoscenza, impegnandola a trasferirle, come avete ascoltato, a controparti economiche. Adesso si parla che l'università deve sviluppare la terza missione. Tutti ci stiamo calando in questa impresa che nelle condizioni in cui siamo è veramente molto molto difficile. Quindi di trasferirla a controparti economiche quali imprese, enti pubblici, altri stakeholder e dall'altro non solo non ci si investe, ma si sottraggono risorse alla ricerca scientifica. Sapete bene che sono circa un milione di euro i fondi, i soldi che sono stati sottratti alle università negli ultimi anni. Un miliardo, scusa, un miliardo di euro. Ma ci si sta riprovando perché qualcuno che segue la stampa ne volevano sottrarre nei prossimi due anni altri 70 milioni di euro. Quindi non ascoltate ciò che in qualche maniera si dice, soprattutto in una fase come questa di propaganda elettorale in cui ciascuno vende ciò che poi vorrebbe vendere, ciò che poi in realtà non dà. Quindi a Lisbona era stato varato un nuovo e dettagliato programma di azione per la crescita. Le nuove dimensioni dell'economia e l'importanza della conoscenza per l'innovazione hanno portato il Consiglio europeo a fissare per l'Unione europea l'obiettivo di diventare, entro il 2010, badate, l'area più competitiva e dinamica del mondo. La prospettiva era sostenere l'occupazione, le riforme economiche e i riequilibri di bilancio, nell'ambito di una nuova economia basata sulla conoscenza e sull'investimento in capitale umano. Si era detto arrivare a investire il 3% del PIL in innovazione e in ricerca e portare almeno il 40% della popolazione, compresa, tra i 30 e i 34 anni ad avere completato un ciclo di studi superiori erano gli obiettivi da raggiungere entro il 2010. Qual è la realtà? La realtà è che la media europea si attesta intorno al 36%. Per l'Italia, con le politiche scolastiche e universitarie, questo target è un vero miraggio, poiché per l'anno 2020 noi potremo arrivare ad un misero 26-27%. Quindi nel 2020 l'obiettivo in Italia non sarà sicuramente raggiunto, molto lontano dall'Europa. Qual è l'investimento in ricerca? Ve lo ricordate bene? Poco più dell'1% del PIL, metà di quella europea, e meno della metà riferita ai paesi dell'Oxess. E poi in termini di valore reale, in realtà, i soldi che si investono valgono un 0,45% in meno rispetto al valore dell'anno precedente. Poi che cosa abbiamo? La metà degli addetti alla ricerca della Francia è un terzo della Germania. in rapporto alla popolazione con la previsione che il nostro sistema andrà a perdere altri 10.000 addetti entro il 2018. A questo punto sarà difficile rimanere competitivi. Ed è facile prevedere che non saremo in grado di recuperare neanche la metà della cifra versata all'Europa. L'Italia versa, ma in queste condizioni neanche la metà potremmo recuperarla per le nostre attività di ricerca. Quindi, parlando di graduatori, l'Italia è al diciottesimo posto su 20 paesi OXE per numero di ricercatori in rapporto agli occupati. Quindi ciò che ci dovrebbe preoccupare non è soltanto il lento progresso degli investimenti in termini reali, ma esclusa l'Italia ci sono molti paesi nell'Unione Europea dove c'è un divario sempre crescente con il resto del mondo. Negli Stati Uniti gli investimenti in ricerca e sviluppo sono aumentati del 60%. Vogliamo parlare dei paesi che prima Giuseppe ha nominato, quelli emergenti. Nei quattro paesi a più alta intensità di conoscenza dell'Asia, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Taiwan, sono aumentati del 75%. I paesi del Briss, Brasile, Russia, India e Sudafrica del 145%. La Cina dell'885%. Sulla base delle attuali tendenze la Cina, l'intera, supererà come investimento l'Unione Europea nel 2014. Difatti la sta già superando. Quindi è del tutto evidente che i nostri giovani, che magari si sono formati in una logica di competizione scientifica internazionale, vanno all'estero, dove trovano i migliori salari e i fondi per i loro progetti di ricerca. Quelli che restano sono da ammirare perché sopportano un'attività di precariato francamente grossa e alla quale dovremmo anche vergognarci. In più le riforme che sono state fatte di aumentare il precariato con i cosiddetti ricercatori a tempo determinato, i quali devono poi anche andare via non solo dalle nostre università, ma anche dall'Italia. Nonostante questo, ci è recentemente apparsa una pubblicazione su Nature in cui l'Italia è, diciamo, per numero di citazioni in una posizione molto buona, elevata, sia in campo biomedico che in campo tecnologico. E questo a che cosa è dovuto? È dovuto al sacrificio dei giovani che continuano a lavorare nelle nostre università, nei nostri enti di ricerca e poi di fatto vengono abbandonati. Ecco, questo è, diciamo così, lo stato della ricerca in Italia e non bastano, diciamo, delle eccellenze per poter invertire, diciamo, questa drammatica situazione. Non vogliamo un Paese dove ci sono, come dire, poche e meritevoli eccellenze, vogliamo un Paese dove attraverso gli investimenti in ricerca assolutamente, diciamo, consistenti si possa permettere ai nostri giovani di poter contare sul proprio futuro, ma soprattutto di poter invertire la crisi economica che ci attanella. Grazie. Grazie Carmine. Allora io farei, c'è un pezzetto però di un numero in più che vorrei dare rispetto a quello che aveva dato Carmine, perché tutte queste cose oramai sono, no, no, numero che è importante secondo me, perché fa pensare, perché queste cose adesso finalmente cominciano ad uscire, no? Vi ricordate? Si sta a un universitario italiano, non produce, fa schifo, alla fine però si è cominciato ad analizzare un po' di queste cose, tutto sommato non performa così male, non performa. C'è però un punto che è importantissimo, però è un punto problematico, nel senso che fa pensare, se voi pensate quanto costa un paper impattato di un italiano e lo confrontate con quanto costa un paper impattato da un americano o da un questo è, io faccio l'economista per mestiere e dico sì, ma scusate tutti quanti noi si andiamo a comprare, ma qual è il rapporto qualità prezzo? La cosa importante è questa, quanto costa un paper? Allora se voi andate a vedere una cosa di questo genere trovate che ci sono numeri di, ordini di grandezza diversi, sei volte negli Stati Uniti sei volte, questo è semplicemente utilizzato, o quanto costa una citation, potete fare operazioni di questo genere. Allora, adesso siamo onesti con noi stessi, non è che nel punto che nel nostro calcolo noi abbiamo un'economia sommersa pure nella ricerca? No, no, perché guardate che è serio il problema, non è così sotto, cioè quando l'Ocse considera il numero di ricercatori in Italia, ma li considera i nostri sommersi, che per noi sono i cosiddetti precari, non precari, cioè io non lo so, onestamente non ho risposta, perché non è possibile, se voi andate a fare, quanti lavori di affiliation italiane vengono pubblicati, e noi abbiamo numeri incredibilmente superiori a quelli, allora probabilmente ci sarà una parte nel denominatore che non riusciamo a catturare, che attenzione è un problema etico molto serio, un problema etico molto serio, cioè significa che noi stiamo sfruttando ricerca, l'economia sommersa la chiamo io, in maniera più elegante, e c'è un problema serio, questo secondo me è un problema molto serio, adesso visto che sto provocando io, mi facciamo provocare pure a Franco un po', perché se no non c'è gusto. Franco, butta due o tre provocazioni così. Massimo provoca il provocatore, allora io non posso non rispondere. Vi rispondo con un paio di cose. Qualche anno fa ha scritto alcuni pensieri sulla governance dell'università che sono usciti in parte anche su un giornale che si chiama Darwin, che è fatto alla Fondazione Veronesi, e poi, scusatemi, ma è andata a finire su un volume di filosofi, quando è andata a finire su un volume di filosofi ho detto, oddio, allora è finita questa provocazione, non vale più a nulla. Bene, comunque ci sono due o tre idee, alcune addirittura sono diventate leggi, prima della Gelmini avevo scritto queste cose, però oggi un po' modificate e vi voglio mostrare due provocazioni che sono derivate forse da quelle idee, però, diciamo, forse in questo momento sono proprio i rettori che possono dare ascolto, poi buttarle nel cestino e non dico poi i politici o coloro che ci governano, perché le leggi poi si fanno in Parlamento e non si fanno nella Cruy, eccetera. Allora, noi che cosa facciamo nel Cinge? Perché partiamo da un concetto, no? Che cosa io credo di aver catalizzato a fare? Alta formazione e ricerca, perché le due cose devono essere strettamente combinate insieme, perché facendo ricerca scientifica, parliamo sempre di giovani, di giovani, giustamente, ai giovani bisogna insegnare, ma bisogna insegnare sul campo, lavorando sul campo, discutendo con loro delle idee, discutendo con loro ancora più dettagliatamente nel campo biomedico degli esperimenti che si devono fare, perché se non si costruiscono gli esperimenti a tavolino e leggendo i lavori degli altri, non si può capire metodologicamente come si deve affrontare i problemi e come si deve cercare di portarli a definizione. Bene, allora il mito cosiddetto dell'università è perfettamente rispettato, perché il mito dell'università dice che nell'università si fa ricerca scientifica e si fa alta formazione, si fa formazione. Poi vediamo alta o meno alta. Bene, allora queste due cose sono strettamente connesse fra di loro e bisogna che stiano sempre insieme. Io non sono d'accordo su questo, quindi prima provocazione. E lo dico subito, non è che non sono d'accordo a tutti i livelli della formazione universitaria, ma sono d'accordo solamente nei livelli più alti. Nei livelli più bassi, se voi pensate ai college americani, solo il 20-15-20% dei professori dei college americani e fa ricerca. Noi abbiamo la nostra cosiddetta laurea triennale, che onestamente è come se fosse un college, è come se fosse un baccalaureato della cultura francese, oppure il college dei paesi anglosassoni. E allora ecco che io non mi trovo più a quello che dicono le leggi italiane. Le leggi italiane dicono che un professore, quando viene assunto nell'università, si è esso di prima o di seconda fascia, cosa deve fare? È obbligato a fare. Ricerca scientifica, anche ricerca scientifica. Non è può fare solo didattica, deve fare anche ricerca scientifica. Badate bene. Per fare la ricerca scientifica nel campo della biomedicina, ma in tanti altri campi, in tutte le scienze sperimentali, ma forse anche in quelle umanistiche, in tanti casi, o che si dicono umanistiche, c'è bisogno di soldi. I soldi non ci sono. Allora, pragmaticamente, vogliamo dire la verità. Noi abbiamo tanti docenti che non possono fare ricerca scientifica. E non perché non sono bravi e i loro oggetti non sono buoni. Vedi quanti FIRB, quanti PRIN hanno punteggi altissimi, buonissimi, ma non possono essere finanziati, perché non ci stanno i soldi. È vero questo o no? Se è vero, vuol dire che noi siamo dei velletari in Italia, perché tutti questi professori li obblighiamo a fare ricerca scientifica e non possiamo dare soldi anche ai progetti buoni che loro costituiscono per andare avanti. Allora, come si può fare per questo? Si sa che cosa di pazzaria dice adesso Franco Salvatore. Ebbè, dico che noi dobbiamo usare, innanzitutto, scusate, ancora una premessa. Il 3 più 2 era un momento magico. È stato molto criticato, molto disapprovato, qualcuno è stato molto contento del 3 più 2, perché il 3 significava in fondo il baccalaureato, significava questo college, diciamo, questi tre anni erano professionalizzanti per fare delle professioni. Allora ne abbiamo perso questa occasione, perché invece di farli in parallelo, diciamo, li abbiamo fatti in serie, l'uno dopo l'altro. Il che ha scombinato tutto, a mio sommesso avviso, perché in fondo i due anni successivi servono per far rimuginare allo studente le stesse cose che ha fatto in più piccolo, facendo ulteriori approfondimenti ed altri, quando li fanno, quando non sono gli stessi programmi. Quindi scusate, ma è una critica che non si doveva fare il 3 più 2, ma si doveva fare in parallelo e non in serie, non un dopo l'altro. Un poco in alcune facoltà, così è rimasto, fortunatamente, legge, medicina, è rimasta solo la laurea specialistica e non il 3 più 2, però in tanta gran parte delle altre facoltà il 3 più 2 adesso si sta cercando di farlo funzionare. Perché dico che è un momento magico? Era un momento magico perché in quel caso noi potevamo dire i professori che vogliono fare soprattutto didattica, a loro scelta, fanno il 3, insegnano nella laurea 3. Quelli che invece insegnano a più alto livello e devono fare una didattica molto inferiore, perché non è possibile non fare 120, 180, 300 ore di lezioni come fanno molti professori perché non ci stanno i corsi e bisogna dare le supplenze e fare anche ricerca scientifica. Perché ci vogliono ore di lavoro per fare una lezione didattica che sia non ripetitiva ma innovativa. Ci sono due tipi di lezioni all'università, quelle ripetitive che si fanno ogni anno sempre le stesse, sempre le stesse e quelle innovativi. Allora se vogliamo pensare a quelle innovative che devono essere quelle di più alto livello, dei dottorati, delle specializzazioni e forse anche della specialistica, è necessario che se ne fanno molto di meno. Come si fanno in America? Ma in America chi è professore che fa ricerca scientifica va 150 ore di lezioni, in America, in Inghilterra, non esiste. Scusate ma non esiste. Se fanno 30 ore è il massimo, ma fanno 10 ore, qualcuno addirittura fa 4-5 ore di lezioni in un anno di altissimo livello. Fanno 10, 20, ma non ne fanno 100 come in Italia. È pazzesco. Allora o uno non le fa e quindi gabella lo Stato dal punto di vista di non fare la docenza che vuole, oppure uno le fa e perde tanto tempo che non può fare la ricerca scientifica. Non è il tempo di fare la ricerca scientifica. Allora come si può evitare questa cosa? Si può evitare cercando di fare, secondo me, e questa è la provocazione, scusate, facendo 4 livelli, scusate dove sta scritto questo? Allora facendo 4 livelli, non livelli verticali, ma facendo due tipologie di professori, professori che fanno prevalentemente didattica, che non è che non possono applicare ai clienti di ricerca, se hanno la capacità e se stanno in strutture che glielo permette, va bene. E di prima o di seconda fascia, e di prima e di seconda fascia anche quelli che fanno prevalentemente ricerca scientifica e non sono obbligati a fare 150 ore di lezione all'anno, perché sennò la ricerca scientifica non la possono fare. Ecco, che ci vuole a fare questo? Secondo me non ci vuole niente, è facilissimo. Basta pagare un poco poco in più quelli che fanno didattica, non quelli che fanno ricerca, quelli che fanno didattica. Quelli che fanno ricerca si possono prendere un po' di soldi dai grant di ricerca, perché sono grant di ricerca che devono poter consentire una certa cifra, naturalmente moderata, che può migliorare. Più grant di ricerca ricevono, più possono fare una piccola aggiunta ai loro stipendi e mi pare perfettamente giustificabile. Allora, se si facesse questo, si darebbe più realtà a chi fa il mestiere e non si dice tutti debbano fare ricerca scientifica e tutti debbano fare attività didattica, che è una velletà ed è un mito, diciamo, sbagliato nell'università, se non fosse solo legata agli alti livelli, perché agli alti livelli si deve fare didattica e ricerca insieme, ma quel poco di didattica che serve per collaborare l'attività di ricerca e per rendere migliore l'espressione dei dati. Qual è il secondo punto? Si parla tanto di università, proprio perché non ci sta moneta, università di ricerca, teaching university e research university. Questo in Italia, a mio avviso, non sarà mai possibile, perché voi immaginate, tutti quelli che fanno ricerca nelle università piccole, se ne devono piano piano scappare e andare nell'università dove ci stanno più soldi o dove ci sta la possibilità di fare ricerca. E quelli che fanno didattica se ne vanno nelle università più piccole o più relegate, perché non possono fare didattica e non possono fare ricerca. Secondo me è un assurdo. Allora, qual è invece una cosa realistica anche questa? Io domando ai rettori, perché non si possa fare. Prima diceva il rettore Marrelli, Franco Salvatore c'è un merito, ha pensato, spero che l'ha detto sinceramente, di essere sempre legato all'università, anche in questo centro che ci è accaduto di fare, perché ci vuole grandi osmosi tra le due cose. Allora, ecco, ogni università dovrebbe creare dei centri di eccellenza dove si va per merito, dove le persone si uniscono per merito ai più alti livelli e non li sceglie nemmeno il rettore, perché se no si fa i nemici in casa. Li sceglie una commissione esterna, sceglie l'accademia dei licei, l'accademia delle scienze, anche istituzioni straniere. Diciamo, io parlo sempre del campo biomedico, poi in altri settori la cosa potrà essere simile. Allora, anche nel campo delle humanities si potrebbero benissimo fare questi centri di eccellenza, come i crogioli di gente che anche a tempo, per esempio per tre o quattro anni, finisce di lavorare nel proprio dipartimento e va a lavorare in questo centro di eccellenza. Non è niente di diverso, non ci vogliono molti soldi per fare questo, però è una premialità, quindi spinge le persone a fare ricerca a alto livello, a poter dire io aspiro ad andare in quel centro perché quello è il meglio, è il crogiolo più bello, più importante dell'università, perché si fa ricerca scientifica all'alto livello. E queste sono le mie due provocazioni. Grazie. Queste cose di Franco le avevo già sentite, sono da pensare, attenzione sono da pensare. Io direi che forse uno dei problemi che noi possiamo risolvere a breve è proporre Franco come Ministro dell'Università della Ricerca scientifica. Vediamo che succede. Adesso io ho ciò. Come l'immaginavo questa penalità. Allora, Enrico Dianese, dove sta Enrico? Eccolo là. Scusa, sbaglio io, sbaglio io. Dai, Anese. Tu, Università di Teramo. Sì, Università di Teramo. Buonasera a tutti. Dopo questi autorevoli relatori prima di me, mi scuso e porto le scuse del professor Luciano D'Amico, rettore dell'Università di Teramo, che all'ultimo momento ha avuto un impegno imprevisto e non è potuto recarsi qui. Mi fa piacere però di essere qui in qualità di biochimico, sono un bio, anch'io, un bio di ACI, un professore associato. Con un corso fermo. Con un corso fermo, sì, esatto. E sono anche un po' coinvolto con l'attività didattica in qualità di presidente del corso di laurea in biotecnologia dell'Università di Teramo. Mi fa piacere questa giornata, mi fa piacere essere a Napoli perché, come diceva prima il collega artista, la passione, quindi condivido i discorsi fatti dai precedenti rettori. La passione condivide sia gli artisti che i ricercatori. Ahimè oggi ci vuole, come diceva il professor Di Ilio, una grande passione per fare ricerca in un settore che è assolutamente sottofinanziato, come quello delle bioscienze. Quindi il connubio arte e passione in una città, quindi è tipico della cultura partenopea, che mi fa piacere essere qui e ricordare che anche il corso di laurea in biotecnologia dell'Università di Teramo, tra i fondatori, vede un napoletano, il professor Corredino Motti, che è in me scomparso nel 2001, un allievo del professor Federici, un allievo anche del professor Cortese dell'Università di Roma Torvergata. E insieme a lui, con grande entusiasmo, abbiamo iniziato questo percorso all'Università di Teramo, che devo dire ha portato ad una realtà piccola a cercare di portare avanti solo le eccellenze, di fatto di portare avanti solo argomenti di ricerca che fossero di fatto vincenti. È vero che oggi esiste questa situazione che ha ben sottolineato il professor Di Ilio in Italia, cioè molti giovani sono sottopagati, molti giovani non hanno possibilità di trovare posto, ma è anche vero che se c'è una possibilità di fare innovazione tecnologica e trasferimento tecnologico nelle università, io devo dire che per anni ho fatto il ricercatore classico che si impegnava a pubblicare i lavori scientifici e non a trasferire dal punto di vista tecnologico delle mie conoscenze, quindi a cercare di fare i brevetti o di creare degli spin-off. Oggi invece, e mi fa piacere essere qui, il Change ne è una rappresentazione molto importante che per noi tutti deve essere un esempio, ovviamente anche per l'Università di Teramo in piccolo, è un esempio di come fare innovazione e trasferimento tecnologico. Oggi siamo tenuti non solo a pubblicare bene, quindi a fare una buona scuola, come diceva il professor Salvatore, che ringrazio insensitamente dell'invito e porto anche i saluti del professor Luciano D'Amico ovviamente, ma ripeto bisogna fare uno sforzo in più per fare idee brevettuali, per fare idee brevettuali, per creare dei contenitori che siano dei consorzi all'interno del quale creare degli spin-off. Questo è fondamentale nelle nostre sedi. A Teramo in piccolo qualche cosa di questo tipo stiamo facendo insieme con il consorzio chimico farmaceutico, quindi il polo Capitank, che comprende tutte le aziende del polo chimico tecnologico abruzzese, con il quale appunto partendo dall'alta formazione abbiamo fatto un consorzio con il dottorato di ricerca in biotecnologie. Quindi l'idea è di fare dottorati di ricerca che possano non solo lavorare nelle strutture universitarie pubbliche, ma che possano anche trovare inserimento nelle aziende presenti nel territorio. In questo senso ovviamente abbiamo, quindi nel settore dell'alta formazione, abbiamo fatto e programmato dei job placement e dei career day. Il 27 maggio ci sarà proprio un evento dedicato al career day, cioè un evento in cui tutte le aziende del polo Capitank saranno presenti a Teramo e in cui gli studenti neolaureati e anche borsisti e assegnisti potranno di fatto incontrare chi si occupa di inserimento nel mondo professionale proprio per creare un link tra il mondo universitario e il mondo delle aziende. Il 27 maggio sarà un evento aperto, quindi chiunque interessato può partecipare. Sono ovviamente d'accordo con tutte le osservazioni e anche con le provocazioni del professor Francesco Salvatore. Sono assolutamente d'accordo che vi sia in questo momento un carico didattico eccessivo per molti docenti nelle università. È difficile fare ricerca con un carico didattico eccessivo, soprattutto nelle piccole sedi c'è un carico didattico che è eccessivo e assolutamente l'idea di fare dei teaching professor, piuttosto che delle teaching universities, la vedo come un'idea provocatoria ma è un'idea assolutamente da cavalcare. E piuttosto di fare delle attività di alta formazione invece dove i docenti possano veramente, ma ripeto tramite il trasferimento tecnologico, riuscire a portare lo studente di dottorato di ricerca all'interno dell'azienda, all'interno dell'azienda con un'idea brevettuale, all'interno dell'azienda con un progetto di ricerca da farsi finanziare oggi in Horizon 2020 chiede questo, cioè non possiamo avere idee di ricerca solo gli ERC, che comunque sono difficili agli ERC da prendere, prevedono progetti di ricerca di base, ma in Horizon 2020 noi dobbiamo di fatto avere delle innovazioni da presentare, quindi se non abbiamo dei brevetti o non abbiamo delle applicazioni che sono nella fase pre-sviluppo del prototipo, nel caso del drug design, sviluppo del farmaco, non possiamo essere competitivi. Quindi questo è sicuramente un ambito nel settore bio dove bisogna investire molto. Vi ringrazio ancora per la partecipazione e per l'invito. Grazie molto. Qui abbiamo due problemi. Allora io sto pensando, l'anno 21 l'Ateneo Federico II di Napoli sarà il primo Ateneo d'Italia ad avere un PICD in, come si fa, una sua, una scheda sua. Perché non è solo il carico didattico qua, qua sono le quantità enormi di carico burocratico che è assurdo, c'è un principio di indeterminatezza ben noto, per cui se due università, per quanto sia chiaro il principio di legge, se due università chiedono al Ministero avranno due risposte diverse e il massimo numero di risposte è pari a quello delle università, come ben noto, quindi avremo un problema serissimo che secondo me è quello, quello è molto serio. Poi invece di Roberto Lagalla c'è Marcello Saccio, dove c'è Marcello? Eccoti qua, ti perdevo. Roberto Lagalla è il rettore di Palermo. Grazie, io desidero innanzitutto ringraziare il professor Franco Salvatore, il magnifico rettore della Federico II, il professor Marrelli per l'invito. Chiaramente porto il saluto di Roberto Lagalla, che è appunto il rettore dell'Ateneo di Palermo, che vi saluta, vi ringrazia e Franco si congratula con te, si congratula con te per tutto quello che hai fatto, ma mi ha detto di dirti che lui è certo, e ti ringrazio anche per questo, di quello che ancora farai, di quello che molto ancora darai nel campo delle scienze biomediche. E se mi permetti, questo non è solo il pensiero di Roberto Lagalla, ma tu sai che anche il mio pensiero è di tutto il gruppo che noi rappresentiamo. Io vorrei iniziare, vi presenterò qualche dato che probabilmente già conoscete, per poi arrivare a farvi vedere ciò che noi, che il rettore Lagalla ha, diciamo le strategie che il rettore Lagalla ha stabilito per superare un po' le difficoltà che tutti gli Atenei e forse gli Atenei del Sud in maggiore misura vivono. Vorrei iniziare con questo monito del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che afferma la necessità fondamentale di investire nella ricerca e nell'alta formazione. Per questo occorre destinare attenzione, impegno e risorse a questo campo fondamentale dell'impegno dello Stato e della società. Ma malgrado il Presidente dica questo, la spesa per ricerca e alta formazione che lo Stato italiano dà è il più basso, tra i più bassi in Europa e questo chiaramente comporta un ritardo negli investimenti, i tagli alla spesa corrente e una carenza di azioni strutturali. Questi dati certamente li conoscete, vedete che l'Italia è in una posizione di classifica per quello che riguarda la spesa per la ricerca non ottimale e soprattutto è molto al di sotto di quella che è la media dei Paesi europei. Anche se negli ultimi anni il trend è un aumento, questo deve essere una spinta a continuare. La regione dalla quale vengo non è messa benissimo, la Sicilia come vedete è in una posizione di classifica per quanto riguarda la spesa per la ricerca non ottimale e se vediamo in questo istogramma la comparazione anche per la spesa per l'istruzione universitaria vediamo che l'Italia è fanalino di coda. Stanno meglio Francia, Germania, Pesi Bassi, Spagna, Gran Bretagna e se poi facciamo la comparazione e ci rapportiamo agli Stati Uniti d'America il divario diventa ancora più sensibile. Se vediamo i finanziamenti dei privati all'università vediamo che siamo un po' meglio rispetto a altre nazioni europee, Francia e Germania, però se vediamo la colonnina degli Stati Uniti d'America vediamo che è veramente sconfortante quello che i privati danno alle università rispetto appunto agli americani. Questa è un po' riassuntiva la spesa per ricerca totale, quella sostenuta dalle imprese e si vede appunto la posizione dell'Italia in zona di bassa classifica. E se andiamo al numero di laureati in una popolazione di età compresa fra i 25 e i 34 anni vediamo che anche qui l'Italia è purtroppo fanalino di coda, molto al di sotto delle altre nazioni diciamo che competono con le quali noi dovremmo competere. e anche i coloro, i laureati che trovano occupazione nei due anni successivi alla laurea anche qui noi siamo purtroppo in coda. Vedete abbiamo il 25% di disoccupati a due anni dalla laurea e se ci confrontiamo con la Germania che hanno solo il 6,6% di disoccupati dopo due anni dalla laurea. E anche per il numero dei dottori di ricerca non siamo messi bene. Vedete che siamo anche qui all'ultimo posto rispetto soprattutto a Germania, Paesi Bassi e Gran Vetrania. E allora cosa fare? Partendo un po' già qualcosa è stato detto, partendo un po' dal processo di Bologna che è stato il luogo e la data in cui si è dato l'obiettivo di rimodulare e riorganizzare l'istruzione universitaria e tramite due punti principali una omogeneità dell'istruzione superiore su tre livelli laurea, master e dottorati di ricerca e poi l'internalizzazione dei percorsi formativi. A seguire, ne ha parlato il professore Di Ilio, l'agenda di Lisbona dove si pose come obiettivo che l'Europa divenisse l'economia più competitiva e più dinamica al mondo basandosi sulle conoscenze e tramite appunto il noto modello a tripa elica ricerca, formazione, innovazione. Però l'Associazione delle Università Europee nel 2010 ha rilevato un andamento discontinuo di questo processo con perduranti carenze e le ha soprattutto evidenziate nel livello di coinvolgimento dei diversi attori del sistema non ottimale un ritardo di adeguate politiche della conoscenza e della ricerca sostenute da idonee risorse finanziarie l'insufficiente mobilità internazionale di docenti e studenti una limitata attrattività dello spazio della ricerca e la scarsa integrazione tra l'area europea dell'istruzione superiore e l'area europea della ricerca. Già il programma nazionale della ricerca nel triennio scorso, quello del 2005 e 2007 aveva identificato quelle che sono le caratteristiche più importanti della ricerca nel sud, nel mezzogiorno è principalmente una capillare diffusione di laboratori e strutture pubbliche di ricerca una scarsa capacità di attrazione di risorse esterne, di collaborazioni con soggetti privati e una limitata partecipazione a bandi altamente competitivi nazionali e dell'unità europea e aveva anche posto, segnalato, quelle che potevano essere, diciamo, i suggerimenti per superare queste difficoltà e principalmente un aumento delle risorse per ricerca e sviluppo di fonte pubblica e un forte raccordo, quindi una forte integrazione con gli interventi di politica dell'istruzione che accrescano l'efficienza del sistema universitario. E prima di dirvi cosa stiamo facendo a Palermo per appunto superare queste difficoltà vorrei ricordare due riflessioni. Una di Umberto Veronesi che dieci anni fa nel 2004 disse il pericolo che io vedo è che la tecnologia sorpassi la scienza la tecnologia ha solo una funzione esecutiva la scienza invece pensa e è un programma strategico davanti a sé la responsabilità dello scienziato risiede proprio in questo far sì che la scienza avvii e mantenga una valenza forte. E questo pensiero di Elio Cardinale Elio Cardinale, molti di voi lo conoscono, è stato presi dalla Facoltà di Medicina per lunghi anni, è stato anche sottosegretario alla Salute durante il governo Monti che nel 1997, in un periodo molto lontano affermò la cultura non si riassume più tutta nell'università la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale si allontanano dalle aule accademiche e si dislocano in nuovi organismi che seguono l'università e l'affiancano per adeguarsi a una società smisuratamente cresciuta e profondamente mutata. E allora bisogna fare rete bisogna fare integrazione integrazione tra soprattutto per fare buona ricerca e buona formazione nell'ambito biomedico integrazione tra università, ospedali, industria medicale e farmaceutica e società scientifiche e allora a Palermo nel triennio quali sono stati gli obiettivi e la strategia che il Rettore Lagalla con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno elaborato quello su tre punti dottorati di ricerca integrazione tra assistenza e ricerca e progetti di ricerca dottorati di ricerca che avessero appunto le caratteristiche della internalizzazione quindi la co-tutela, il doppio titolo in convenzione la formazione deve essere chiaramente coerente alla carta europea dei ricercatori e un obbligo di frequenza di almeno sei mesi presso istituzioni estere di ricerca di elevato livello l'integrazione poi tra assistenza e ricerca che riteniamo fondamentale per lo sviluppo con l'istituzione e l'organizzazione di piattaforme laboratoristiche di eccellenza l'aggregazione delle strutture dipartimentali universitarie un'omogeneizzazione dei programmi formativi e di tirocinio delle scuole di specializzazione facendo proprio una rete territoriale della formazione e come progetti di ricerca i progetti PON programmi dell'unità europea per potenziare le infrastrutture ad alto impatto tecnologico una collaborazione con le industrie medicali con insediamenti aziendali all'interno delle strutture universitari quindi dei policlinici universitari Palermo è un policlinico universitario uno dei pochi rimasti e infine cooperazione con le società scientifiche di area biomedica e vi dico semplicemente e concludo quello che già abbiamo realizzato a Palermo l'integrazione tra assistenza e ricerca abbiamo già è operativo il CladiBior che è una piattaforma laboratoristica centralizzata per la diagnostica avanzata della ricerca biomedica Franco io chiamo questo CladiBior un mini change conosco il change un change in miniatura molto molto piccolo ma diciamo l'abbiamo organizzato sull'idea e sull'organizzazione che tu hai voluto dare al change e questi sono due PON questa è una strumentazione che è proprio questo tipo ce ne sono altre due in Italia ma questa tipologia l'abbiamo solo noi a Palermo è un progetto PON ed è il progetto cosiddetto FUS ci sono ultrasuoni che vengono utilizzati dietro guida con risonanza magnetica che vengono utilizzati soprattutto in alcune patologie dove non c'è altra possibilità terapeutica e questa è una strumentazione che ci permetterà di fare della ricerca speriamo di alto livello e soprattutto di traslare poi questa ricerca dal punto di vista applicativo per la cura appunto di alcune patologie e poi quest'altro progetto PON il Medecab che è appunto un laboratorio interdipartimentale questo quindi nel dipartimento che dirigo ma anche in dipartimenti della scuola di scienze che si occupa soprattutto di due cose uno di sintetizzare dei biomateriali che possono essere utilizzati nel trattamento di patologie quindi biotecnologie per la salute umana e poi un altro campo molto diciamo importante di attualità lo studio e le applicazioni delle cellule staminali e questo è un po' quello che già a Palermo abbiamo realizzato sappiamo che il percorso è difficile sappiamo che soprattutto Palermo come altre università sono state fortemente penalizzate negli ultimi anni al punto di vista dei contributi statali però la Galla lo conoscete è un ottimista noi siamo ottimisti e siamo sicuri speriamo e siamo sicuri che il futuro sarà migliore vi ringrazio allora abbiamo Claudio Russo giusto al posto di Palmieri dove sta si è andato a sedere Rettore Molise e poi Filippo dopodiché Gaetano con la sua lucidità tra conclude come lui sta prendendo appunti molto attentamente al Rettore Palmieri dell'Università di Molise volevo ringraziarvi proprio per l'invito anzi il Rettore si scusa in questo momento a Foggia per l'inaugurazione dell'anno accademia volevo solo dire due cose è ovvio che siamo tutti dalla parte della ricerca è anche ovvio che ogni tanto ci si sente un po' come l'associazione degli alcolisti anonimi nel senso che siamo tutti a dire sempre le stesse cose riguardo ai valori in cui tutti crediamo ovviamente ma in genere manca sempre diciamo il referente politico che ci dice che ascolta e che poi diciamo dovrebbe rivestire dovrebbe dare poi all'atto pratico dovrebbe dare la pratica appunto di queste idee qualche settimana fa mi trovavo a Roma mi occupo di farmacologia c'erano delle aziende farmaceutiche che dicevano noi disinvestiamo in Italia perché tutto sommato le scatole le possiamo fare anche in altri in altri paesi ci costa meno persino i tre alclinici possiamo farli diciamo in altri paesi dove tutto sommato abbiamo un controllo anche più efficace di alcuni aspetti per cui noi disinvestiamo in realtà non sarà vero perché il sistema di sanitario nazionale diciamo è abbastanza importante per le aziende farmaceutiche però è un indizio molto importante nel senso che investire in cultura scientifica investire in alta formazione è l'unica nostra speranza è l'unica nostra speranza anche non solo per il futuro io direi proprio adesso noi siamo in una situazione per cui veramente non possiamo non imboccare questa strada in maniera definitiva su questo non c'è più alcun dubbio lo diciamo da tanti anni speriamo che effettivamente adesso succede qualcosa per cui alcuni elementi catalizzatori possono effettivamente portare su questa strada in maniera molto molto chiara il change è stato ed è e sarà uno di questi elementi catalizzatori per chi come me qualche anno fa era fuori il change è un posto dove si possono realizzare dei sogni adesso i giovani sono giustamente un po' fuori e sono usciti ma per chi fa ricerca per chi crede nella ricerca sono i posti come il change che riescono ad attirare che riescono a far realizzare i sogni e noi questo lo dobbiamo la vostra riservatore noi siamo in debito io mi sento in debito grazie grazie a tutti fatemi fare un'altra domanda a cui risponderà Filippo De Rossi allora dunque noi non siamo secondo me almeno io ho studiato pur facendo l'economista ho studiato delle cose ma diciamo noi non siamo geneticamente diversi tanto diversi dai cinesi dagli americani, dagli inglesi, dai francesi pare che la differenza genetica sia praticamente inesistente allora significa che se noi investiamo in ricerca una domanda secondo me molto seria se noi investiamo in ricerca abbiamo lo stesso ammontare pro capite per ricercatore di quello che si investe negli Stati Uniti in Francia e in Germania avremo la stessa probabilità cioè la stessa percentuale di ricercatori che ottengono dei risultati più degli americani dei cinesi perché non capisco perché noi dovremmo essere più efficienti o più bravi giusto? se almeno in The Long Land allora noi siamo 57 milioni in Cina sono un miliardo e qualcosa ci dobbiamo chiedere possiamo veramente competere sulla ricerca o possiamo soltanto investire sulla ricerca per non perdere posizioni rispetto a questo questo guardate che non è una domanda così oziosa per quale motivo noi investendo in ricerca diciamo genericamente in ricerca dovremmo avere dei risultati che ci permettono di recuperare posizioni rispetto a quello che sono posizioni di competitività rispetto a quello che stanno facendo gli altri paesi perché o noi riteniamo che noi siamo più bravi più organizzati o geneticamente diversi e quindi la nostra produttività media per euro investito in ricerca qui aumenta o al cimente non capisco per quale motivo questa cosa dovrebbe essere allora mi domanda ma non è che a noi conviene forse non tanto sì se vogliamo investiamo in ricerca per non perdere ulteriori posizioni perché noi stiamo perdendo posizioni se noi contiamo l'un per mille del prodotto mondiale noi dobbiamo mantenere questo un per mille al cimente sarà meno dell'un per mille il numero non lo so ho detto un per mille a caso ma non è che ci conviene invece investire in cose in cui noi abbiamo in settori in cui noi abbiamo vantaggi competitivi e quindi selezionare il settore dove noi a parte un investimento generalizzato per non perdere posizioni ma dire ma se vogliamo recuperare posizioni forse dobbiamo investire nel settore A e nel settore B dove noi tradizionalmente abbiamo un vantaggio competitivo e questi quali siano potete ognuno di voi immaginarlo non so se mi sto spiegando invento beni culturali sto inventando probabilmente avremo un vantaggio competitivo lì a guardare lo stato di questa città non sembra ma forse ce l'abbiamo lo stesso credo veramente è un problema di chiedersi se non solo investire ma fare politica della ricerca che significa politica settoriale perché non capisco perché se noi attenzione una domanda non è una polemica se noi investiamo in scienza aerospaziale quanto investono gli stati e poi seconda domanda ma il secondo problema negli Stati Uniti gran parte della spesa di ricerca viene dal ministero della difesa non so se questo è chiaro e allora noi non credo che lì possiamo compensare non abbiamo un esercito gli F-115 credo che non siano una delle cose su cui noi dobbiamo investire però questo è uno dei problemi seri allora queste due cose messe assieme non probabilmente noi come comunità scientifica non dovremmo porci il problema e dire signori ma forse io economista devo fare un passo indietro in che senso perché non conviene investire in economia perché investire nel settore economico perché probabilmente nel settore economico se investono diciamo negli Stati Uniti o in Cina hanno risultati diciamo come frequenza statistica molto più alte dei miei sono giudizioni perché sono di più credo che questo è uno dei posti dei problemi che noi dovremmo mettere sul tavolo quindi non solo investire di più investire di più serve solo a mantenere le posizioni ma decidere anche in quali settori investire cosa che noi fra di noi non abbiamo noi universitari non l'abbiamo mai affrontato in maniera seria questo problema ti dico questo succede questo qua allora unisannio unisannio sì vabbè adesso ti rispondo però io per la verità ero venuto preparato solo a un saluto perché visto che si parlava di biomedical science e non essendo io assolutamente del mestiere mi ero preparato solo a quello e lo faccio comunque poi visto che avete detto tante altre cose mi avete dato degli stimoli di riprendere tra un istante quindi vabbè la prima cosa è quella che avevo preparato e quindi gli auguri al CEIinge e al professore Salvatore per il compleanno che ci inorgoglisce un po' tutti noi poi insomma il CEIinge è suo è dell'università di Federico II è della città è della provincia di tutti quelli che lui ha detto però insomma è un po' che è anche nostro trovare un po' anche di quelli che sono stati partner di questo centro in tutti questi anni noi come Sannio attraverso il gruppo di ricerca prima del professore Colantoni poi anche il professore Mancini siamo stati a stretto contatto con le ricerche del CEIinge abbiamo ancora convenzioni attive e ne rifaremo a breve speriamo tutti quanti perché è stata ed è una collaborazione ricca di soddisfazioni per tutti perché poi il CEIinge ha una ragione d'essere per noi lo è in maniera particolare perché il nostro Ateneo Sannio io credo ancora che sia il più piccolo pubblico d'Italia non noi sono proprio certo ma se non è il più piccolo negli ultimi tre però ciò nonostante noi abbiamo nonostante le dimensioni abbiamo un'idea della formazione e dell'università molto orizzontale e quindi per noi la formazione anche a livello di laurea magistrale ad ampio spettro ed è come orizzontale interdisciplinare come anche ho sentito prima questo però naturalmente non è una una dichiarazione di principio astratta cioè è una dichiarazione di principio concreta ma vale solamente se è seguita da iniziative come il Change che poi ci consentono nelle misure molto più ridotte naturalmente di applicare verticalizzazioni spinte e quindi di accostare questi prodotti chiamiamoli così questi pensatori per me i laureati sono dei pensatori gente che sa pensare quindi questa gente che sa pensare poi la facciamo pensare su argomenti molto specifici come nel Change come in tante altre società e consorsi universitari ai quali il Sannio aderisce ecco dunque che siamo molto molto lieti di avere a che fare con il Change noi lo siamo in generale accompagniamo i nostri studenti noi siamo stati per i primi anni il Sannio è stato per i primi anni dopo la dal 99 2000 e poi nonostante le dimensioni siamo stati quelli con il maggior numero di spin off in Italia ne è parlato c'è qualcosa che non va e ancora oggi ancora oggi in termini relativi quindi rispetto alle dimensioni siamo l'Ateneo con più spin off di tutti insomma da noi non fanno neanche a tempo a laurearsi i colleghi che hanno aperto questi spin off li prendono i più bravi naturalmente e quindi siamo molto molto su questa linea detto questo e quindi avendo concluso il saluto colgo questi 3-4 spunti che sono stati detti la prima Massimo se ne è andato quindi poi glielo diciamo dopo a parte eh? glielo dici tu? va bene benissimo no il problema non è che ci manca la politica della ricerca qua ci manca proprio la politica universitaria quella è la verità perché è anche un'unico un po' più ampia della ricerca perché ogni volta tutte queste leggi che sono state fatte che sono tutte leggi coercitive nei confronti le università su questo non c'è nessun dubbio no? bene questa coercizione non si ha manca il coraggio di esercitarla esplicitamente fino in fondo io voglio eh faccia lei questo va bene grazie non si ha manca il coraggio di dirle fino in fondo perché non ci sarebbe nulla di male se un Parlamento che è il soggetto deputato a decidere queste cose decidesse che una certa università non serve più oppure che si devono tenere più corsi di laurea tecnologici perché la tecnologia tira e non tira un'altra cosa ma questo lo deve decidere un decisore politico non ci si può dire a noi attraverso tutti quei sistemi subdoli, ambigui ed impliciti vedete un po' il territorio che vuole vedete un po' la laurea che dice poi dopo dopo che fa tutto questo fate un mix e decidete che corso di laurea volete tenere senza ricordare anzi sapendo perfettamente che le università sono fatte di docenti con nome e cognome e settore scientifico disciplinare che quello possono insegnare non è che possiamo improvvisamente avendo fatto un'indagine di mercato cambiare i docenti farli diventare da un settore a un altro cosa che può fare invece è uno Stato che applica una politica universitaria consentendo un trasferimento mirato non un trasferimento tra l'altro vedete se volete vi potete scambiare sì ci possiamo scambiare ma sempre in un'ottica occasionale diciamo non c'è niente di strategico quindi è chiaro che ci vorrebbe una politica della ricerca ma una politica della ricerca nell'ambito di una politica universitaria la provocazione del padrone di casa io non sono proprio d'accordo su questa provocazione quindi hai colto nel segno perché la cosa migliore è quando l'altra parte non è proprio d'accordo la ricerca da sola si fa si fa si fa nel CNL si fa nei soggetti scientifici nei soggetti che sono deputati a fare questo a mio avviso invece è importantissima la necessità che è abbastanza peculiare dell'università italiana che ci siano non le due ma le tre funzioni perché come ha ricordato qualcuno adesso c'è anche la terza missione noi dobbiamo fare anche quello quindi dobbiamo fare la ricerca dobbiamo fare la didattica e dobbiamo fare la terza missione a cui aggiungo una cosa che poi è diciamo trasversale a tutte e tre che è l'attività gestionale tipo le sua o comunque tutte le altre cose che dobbiamo fare quotidianamente ognuno di noi da questo punto di vista io credo che adesso la risposta a un muso duro alla provocazione invece recepisco perfettamente che quando poi ci si occupa di un particolare tema di ricerca o si sta in un momento particolarmente fertile di una ricerca è molto importante potergli dedicare tutto il tempo e soprattutto tutte le energie mentali necessarie ma questo potrebbe essere organizzato se ci fosse un'autonomia organizzativa degli Atenei che potessero dire a ciascuno di noi tu per quest'anno non fai didattica o per i prossimi due anni non fai didattica oppure visto che io mi sento già a questo livello sei troppo anziano la ricerca non la fare più insegni solo la didattica nella scuola nella cosa triennale d'accordo ma è un'organizzazione che possiamo tranquillamente fare all'interno dell'università perché invece eh questo si è d'accordo benissimo e allora siamo d'accordo no no perché quello etichettato teaching proprio non mi piace insomma per un certo periodo per un certo periodo a rotazione si può fare questa cosa anche perché e qui vengo all'altra cosa che invece diceva prima il professore Marrelli non nell'ultimo intervento ho già risposto poi te lo dico un'altra volta invece però ce ne sta un'altra precedentemente che hai detto quella del rapporto tra i risultati e il numero di addetti il numero di addetti esattamente tu dici quel denominatore è artatamente ridotto perché non ci sono no no ma è così non ci sono inostrutturati forse ci sono gli assegnisti c'è l'anagrafe migliore probabilmente ma non di più ma solo quelli là ufficiali detto io questo è vero però se associ a questa osservazione il fatto che comunque la posizione della ricerca italiana è alta anche se rapportata come tu stesso hai detto ai soli investimenti e poiché in effetti quelli che non compaiono come strutturati sono un costo e quindi stanno comunque al denominatore perché sono assegni se non li paghiamo se non li paghiamo proprio allora si è una cosa questo è un altro fatto io penso che tu ti riferissi agli assegnisti ai contrattisti ai borsisti eccetera allora questi qui ci stanno ci stanno comunque al denominatore quindi è abbastanza vero quello che dici ma va contemperato con questa cosa qui viceversa io penso e questa è l'altra cosa che pure hai detto invece alla fine che obiettivamente forse siamo più bravi io lo dico sempre forse siamo più bravi e secondo me sapete siamo più bravi anche perché proprio ce lo dobbiamo fare tutto noi facciamo tutto dall'inizio dalla fotocopia facciamo una lezione insomma siamo pronti a fare qualunque cosa o perlomeno ce l'abbiamo nella nostra forse adesso non più ma ce l'abbiamo l'abbiamo dovuto fare in una certa fase della nostra attività e questo probabilmente è un valore aggiunto anzi lo è sicuro lo è sicuramente e tant'è vero che insomma adesso giusto concludo che nella mia università le tre funzioni che dicevo prima io le ho resete tutto esplicite e fungibili entro certi limiti fino a un 10-15% ma diciamo che le graduatorie di valutazione per me non vanno solamente nella ricerca vanno nella ricerca vanno nella qualità della didattica e nella partecipazione alla vita universitaria perché non possiamo permetterci o meglio lo possiamo fare ma sapendolo da prima che ci sia qualcuno che faccia solo ricerca o viceversa ancora auguri e grazie grazie faccio non delle conclusioni perché non sono in grado di fare delle conclusioni faccio qualche piccolo commento allora mi sembra che uno dei leitmotiv dei vari interventi è che ci stanno pochi soldi e questa è una cosa che insomma che mi sembra l'argomento diciamo più gettonato su questo siamo tutti quanti d'accordo un altro argomento che mi sembra molto gettonato è che c'è poca politica cioè che chi dovrebbe decidere non decide e questo è anche un argomento che penso in Italia dove siamo tutti quanti d'accordo quindi io questi li archivierei questi due argomenti perché mi sembrano diciamo ora non c'è materia del contender adesso invece su quali sono i punti che io credo meritino una riflessione ulteriore è quello un po' su quello che forse dobbiamo far noi cioè oltre a quello che dobbiamo chiedere di fare agli altri ecco un aspetto che prima si ricordava che veniva ricordata dal rettore Novelli nel suo intervento che insomma per avere una grande università una grande grandi strutture di ricerca ci vogliono dei talenti ci vuole un grande capitale umano e bisogna essere capaci di attrarli e poi anche di tenerli però per prima cosa bisogna attrarli allora per poterli attrarre per poter attrarre dei talenti uno dei requisiti fondamentali è avere un sistema che sia basato sulla qualità cioè perché se io ho un talento anche se sta nella mia università io però metto un posto se lui sa bene che nella mia università non si può fare ricerca di qualità se ne va da un'altra parte quindi penso che il primo requisito fondamentale su cui penso che abbiamo fatto molto ma forse dobbiamo fare ancora molto è quello di avere un sistema che è un sistema che è basato solamente sulla qualità e sul merito perché questo ci garantisce almeno di essere in grado di poter attrarre i migliori talenti e questo ricordando il change anche nel rapporto tra precariato e posto fisso mi sembra che uno dei requisiti fondamentali che sta nel change è che i gruppi di ricerca stanno per un periodo di anni poi ospitati al change se sono in grado di poter continuare continuano altrimenti vengono cambiati questo non credo che significhi che noi dobbiamo avere un sistema in continuo precariato ma sicuramente dobbiamo avere un sistema che è molto competitivo perché solo un sistema molto competitivo ci aiuta poi a crescere in qualità a quel punto avendo più soldi saremo anche in grado di spenderli bene perché poi avere solo i soldi senza avere la qualità penso che può fare più danni che vantaggi e questo credo che sia un aspetto che è molto importante su cui poi ovviamente un ambiente aperto è un ambiente dove c'è il merito dove anche c'è l'internazionizzazione dove si accolgono le persone tanti vanno ognuno di noi ha avuto le sue esperienze all'estero ha visto sconosce bene sa bene che la ricerca è una ricerca aperta nel mondo non è una ricerca chiusa in una stanza e qui il nostro problema è che i nostri giovani più bravi se ne vanno molti non siamo in grado di farli tornare ma il fatto che poi ci sia questa circolazione di talenti credo che sia alla base della ricerca moderna quindi sicuramente c'è una necessità di fare qualche cambiamento in questa direzione e uno dei punti che prima anche sulla provocazione che faceva Franco prima che mi sembra interessante è sul tema del doppio canale che è poi uno dei grandi temi di discussione internazionale cioè se tutti debbono fare ricerche didattiche o no cioè qual è il modello ogni paese si è regolato in maniera molto diversa noi dobbiamo ricordarci che la Germania quando ha fatto il suo grande passo in avanti dal punto di vista anche del numero di laureati l'ha fatto aprendo un secondo canale cioè facendo le scuole tecniche superiori che oggi rappresentano un terzo all'incirca dei laureati tedeschi che rappresentano un po' il motore dell'industria cioè tutti quelli che lavorano nell'industria che non richiedono una preparazione diciamo top praticamente vanno in un canale diverso chi poi deve essere invece formato per un certo livello di attività oppure per fare poi attività di ricerca o attività di docenza di docenza invece deve deve aver frequentato essersi laureati invece nel primo canale chiamiamolo così cioè nel canale tradizionale io non so se in Italia si potrà mai diciamo avere una soluzione del genere è indubbio che è difficile coniugare qualità eccellenze e grandi numeri cioè ci vuole sicuramente un sistema flessibile che da un certo che concentra anche il risorse e competenze perché poi la massa critica ha pure un valore per fare ricerca da qualche parte e poi perché altrimenti una dispersione di risorse di tutto dappertutto sicuramente non è che può coniugarsi facilmente con la qualità però questo è un classico io sono molto d'accordo anche con quello che diceva Franco sul tema che all'interno dell'università vanno individuati delle strutture di eccellenza che debbono essere diciamo a tempo perché poi l'eccellenza non è una cosa eterna e quindi in cui si concentrino competenze e ci siano piattaforme di ricerca in maniera tale che quello rappresenta un luogo dove si possa fare una ricerca a livello top e su questo poi perché voglio essere brevissimo gli ultimi due punti che volevo toccare un primo punto che volevo fare una piccola insomma una piccola parentesi sul tema del rapporto diciamo sul problema della ricerca in campo medico perché noi oggi c'è un problema che diciamo noi viviamo dal lato della governanza dell'Ateneo che è il rapporto difficile col sistema sanitario nazionale cioè perché questo è un dato di fatto cioè nel senso che oggi per fare formazione e diciamo considerando l'iscindibilità della formazione della ricerca e della didattica e della formazione clinica nella formazione medica è indispensabile un rapporto solido con i servizi sanitario nazionale che non mi sembra in questo momento viva uno dei momenti migliori della storia e quindi questo è un punto importante che è un punto politico importante che va risolto perché perché è chiaro che noi se noi pensiamo perché è chiaro che un rapporto con la rete ospedaliere è un rapporto importante ma l'ospedale universitario è un'altra cosa cioè tu l'hai detto quindi questo mi sembra un aspetto che va risolto non solo in termini organizzativi ma anche in termini finanziamenti perché altrimenti dobbiamo dire che un certo tipo di formazione in Italia non si può fare quindi la chiudiamo perché altrimenti penso che noi non possiamo pensare che noi possiamo fare formazione medica di alto livello senza avere un rapporto anche finanziario con l'ospedale tale che consenta se noi vogliamo chiedere ai livelli di efficienza e di prestazione di un ospedale normale un ospedale universitario significa chiudere l'ospedale universitario cioè quindi questo insomma mi sembra un punto che dobbiamo chiedere alla politica ritorno indietro invece sul tema dell'eccellenza uno degli con questo concludo uno degli aspetti che mi sembra più rilevante dal punto di vista poi anche diciamo scientifico è un'osservazione che è stata che è emersa in alcuni interventi è sul tema diciamo della multidisciplinarità cioè di come si è cambiato sostanzialmente non solo nella ricerca biomedica ma in tutti i tipi di ricerca cioè almeno in tutti quelli che io conosco l'approccio a quelle che sono veramente gli argomenti di frontiera cioè oggi non c'è un argomento di frontiera che venga affrontato in maniera verticale cioè almeno io non lo conosco e anche l'organizzazione delle grandi piattaforme di ricerca internazionale sono tutte basate su questo principio di una forte multidisciplinarità orizzontale anche Horizon 2020 organizzato in questa maniera del resto ne abbiamo Mauro Ferrari qua in sala che qui come Federico II insieme al Cencio conferiremo un dottorato in un dottorato di ricerca che è un matematico io l'ho conosciuto quando era ingegnere devo diciamo quando insegnava Berkeley però è un matematico che ha raggiunto il top della ricerca in campo medico quindi questo ci fa capire come oggi sia indispensabile cosa forse vent'anni fa è inimmaginabile allora io penso che oggi questo è un punto anche di riflessione che noi dobbiamo fare come organizzazione della nostra formazione come capacità anche di interpretare il cambiamento di come riuscire in un certo senso a interpretare questa modifica perché lavorare in un gruppo multidisciplinare significa anche avere un linguaggio comune avere la capacità di capirsi di parlarsi oggi la nostra formazione una formazione che non mette a comune il linguaggio tra aree che oggi sono considerate differenti cioè oggi far parlare un ingegnere o un medico non è facile allora almeno che non ci siano in piccole aree mentre probabilmente in futuro in ogni ospedale ci saranno i medici gli ingegneri forse anche i matematici non lo so come insomma quando si costruiscono case oggi si chiede ai medici come si comportano gli anziani cioè questo perché per capire come l'orizzonte della ricerca è completamente cambiato allora io penso che proprio questo sia come esperienza di ricerca ma come esperienza di formazione di eccellenza uno dei grandi temi da affrontare nel futuro è questa la capacità di dare a chi lavora in questi campi la competenza per poter lavorare in dei gruppi in dei team che siano fortemente multidisciplinari con un linguaggio comune e anche con la capacità di capirsi perché penso che in questo modo abbiamo una seconda apertura non solo l'internazionalizzazione ma anche superare gli steccati insomma delle competenze disciplinari che credo che sia la grande sfida dei prossimi anni ecco con questo concludo grazie devo dire che io avevo esordito dicendo che i rettori sono noiosi però per fortuna non abbiamo avuto solo rettori quindi non è stato troppo noioso diciamo la verità io ringrazio tutti voi per essere stati qua ringrazio i colleghi ovviamente che sono venuti secondo me cose di questo genere fanno bene perché ci spingono a pensare ci spingono a pensare anche un po' a ridiscutere le posizioni che noi abbiamo tradizionalmente insomma l'uomo è conservatore per definizione e quindi in qualche modo ogni tanto mettere in dubbio le cose a cui è abituato non fanno bene grazie Franco grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti